Gli antibiotici servono a uccidere o ad arrestare la crescita dei batteri che causano malattie. Comunque, l'uso errato degli antibiotici è pericoloso. Per prevenire i superbatteri e mantenere efficaci gli antibiotici, dovresti Prenderli solo quando ti è detto dal medico Non prenderli senza guida medica Prendi la giusta quantità per il giusto periodo. Se non finisci il corso di assunzione, i batteri possono diventare più forti. Non interrompere l'assunzione anticipata degli antibiotici, neanche se ti senti meglio. Non condividere gli antibiotici con gli altri Alcune malattie non hanno bisogno di antibiotici